ragazzi buonasera ragazzi eccoci in una nuova avventura stasera da come potete vedere ci troviamo in ambito portuale alla ricerca di qualche bella spigola a bigli dai ragazzi montatura che andremo a utilizzare in entrambi i casi sarà il mini trave con 040 diretto terminale 030 circa un metro un metro e 20 amo 01 di apache fishing e la nostra immancabile calamarella lavaggio che andremo ad innescare in questo modo passaggio sulla coda corpo testa facciamo uscire l'amo da questa parte vediamo un po' il calamaretto basso e basso facciamo entrare tutto l'amo dentro adesso con l'ago andiamo ad adottare questo modo passaggio l'interno metta la sua bellezza filo elastico e sulla di spiglia ragazzi il nostro innesco è fatto chiudiamo innesco perfetto in questo modo amo fuori non ci resta che attendere ragazzi e sapete risultati di quest'esca chi mi segue lo sa è un grunco dovrebbe essere un bel pesciotto un bel pesciotto un bel pesciotto un bel pesciotto Grazie a tutti. 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 Quello che cerchiamo nei piscatori, al di là della cattura importante tra un'orata, una spigola, ma anche un grunco, può regalare belle soddisfazioni. Quindi siamo tornati, più forti di prima, ricomincieremo a pescare e grazie a tutti voi che mi seguite sempre. Se vi è piaciuto il video, lasciate il like, iscrivetevi al canale Surfcasting nel Golfo. Al prossimo video, ciao ragazzi.